Anche a Derezzo un nuovo presidio dei lavoratori FedEx TNT davanti alla sede aziendale in Viechiari. L'obiettivo è quello di scongiurare le quattro procedure tra licenziamenti e trasferimenti collettivi con la chiusura di 24 sedi su 34 e l'allontanamento di 361 lavoratori. FedEx ferma sulle posizioni del licenziamento. C'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico naturalmente con quello che purtroppo rimane del nostro governo. FedEx ha confermato i licenziamenti dando qualche spicciolo per incentivare chi vuole da solo andare a casa. Questo naturalmente è una situazione che come sindacati non possiamo accettare e abbiamo di nuovo proclamato due giornate di sciopero che sono oggi e domani con presidi in tutta la Toscana. Voglio ricordare che FedEx è un'azienda con oltre 750 milioni di euro di utili che ha fatto un'organizzazione del lavoro basandosi su 361 licenziamenti, 115 trasferimenti fra cui molti lavoratrici che poi saranno trasferimenti mascherati perché comunque si manderanno le persone a lavorare a 200-300 km da casa. Per cui noi non ci diamo una ragione di questa riorganizzazione. Noi riprenderemo l'incontro il 4 giugno. Il 7 saremo al mese. Ma è chiaro, come diceva anche il mio collega prima, che senza un governo siamo in grosse difficoltà e pensiamo che questa sia un'azienda che molto difficilmente tornerà indietro. Ora speriamo, faremo tutte le nostre battaglie sindacali che ci permettono di fare e chiudo con questo che siamo molto preoccupati.